Il G20 che si è appena concluso a Roma ha fissato come obiettivo la copertura vaccinale della popolazione mondiale al 40% entro il 2021 e al 70% entro il 2022, ma in Africa questi obiettivi sono lontanissimi. Il problema è che partiamo da una situazione attuale che siamo attorno al 3-4% della copertura vaccinale, quindi il cammino da fare è tantissimo. I problemi sono legati alle dosi vaccinali che sono pochissime ancora, sono tornato a pochissimo nel Sudan, 140-150 mila dosi che sono arrivate un mese fa, quindi pochissime. E poi il tema è che i vaccini arrivano in capitale, ma bisogna portarli nelle periferie, nell'ultimo miglio del sistema sanitario, vaccinare lì la gente. Ecco, questi sono i due problemi. Dobbiamo farlo per noi e per loro. Il tema della vaccinazione anti-covid nei paesi più poveri dell'Africa sarà al centro del dibattito dell'annual meeting del QOM Medici con l'Africa in programma sabato 13 novembre a Padova. Lo slogan di quest'anno è ripartire e verranno presentati anche i risultati del secondo quinquennio del programma del QOM Prima le mamme e i bambini. Raggiunto l'obiettivo con 320 mila parti assistiti, 10 mila bambini malnutriti, curati. Nel 2020 il covid ha ridotto del 25-30% degli accessi alle strutture sanitarie. Nonostante il covid abbiamo tenuto aperto gli ospedali, qualche limitazione c'è stata, ma siamo contenti praticamente oggi perché quel risultato l'abbiamo raggiunto. Tra gli ospiti attesi al Teatro Geox a Padova anche Mario Draghi, confermati il ministro degli esteri Di Maio e il commissario europeo Paolo Gentiloni. Raccontare, fare il bilancio di quello che si è fatto e di come si è fatto, in grande trasparenza. È la maniera più corretta, a mio giudizio, per conquistare la fiducia dei cittadini e delle istituzioni. In questo caso il bilancio riguarda un programma molto ambizioso, molto difficile da realizzare. In cinque anni garantire l'assistenza a 320 mila parti e a 10 mila bambini malnutriti. Il fatto che siano riusciti tutti i medici con l'Africa del QAM a raggiungere questo obiettivo e addirittura che vogliano ripartire con obiettivi ancora più ambiziosi.